Suona forte, suona reale, salta i pericoli, corri insieme a lui, oltre gli ostacoli, per tutti gli uomini liberi. Lorenzo Speed ti fa sognare, ti fa pensare, ti fa amare, Lorenzo Speed produce speaker, DJ micidiale, come un moschettiere, limpido, sincero, alza la musica, facci sognare, suona, suona forte, DJ. Colora il mondo intorno a te. www.youtube.com Slash Lorenzo Speed, spazio la musica, la musica ci salverà. Slash Lorenzo Speed, spazio la musica, la musica ci salverà. è la musica del mio cuore, è la musica di Zio Lore. Eccolo il fiore, è tutta una questione d'amore. Eccolo il fiore, è tutto il mio cuore, è tutto il mio cuore. facci gioire Lorenzo Speed regalaci la musica grazie a tutti voglio emozionarmi insieme a voi c'è anche Dario collegato e a bordo ciao Dario anch'io collegato e a bordo Dario c'è alza la musica Dario 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un abbraccio fortissimo, grazie, grazie di cuore. Allora ad Arianna Chioggia c'è, vai Chioggia! Salutiamo tutte le amiche e gli amici Chioggiotte e Chioggiotti. Evviva Chioggia e viva la musica. Andiamo con gli indiani Pelle Rossa, i miei fratelli indiani. C'è anche il nostro amico David, David di Dolo, di Dio, Davide66. Ciao Lorenzo, ciao David, David c'è, un abbraccione anche a te. Allora evviva la musica, evviva la vita, evviva il suono, il giusto suono. Dai, dai, ancora con i colori, diteci qual è il colore che vi trasmette questo suono, qual è, ascoltando queste sonorità, il colore al quale pensate. E ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647, i colori della nostra vita. Allora evviva la musica. Allora evviva la musica. Allora evviva la musica. È il suono, è il giusto suono, a volte tempesta, a volte duono. Il giusto suono, è il giusto suono, è il giusto suono. Il giusto suono, è il giusto suono, è il giusto suono. Il giusto suono suono, è il giusto suono. Il giusto suono suono è la Saia che vi saluta con Lorenzo Speed da Genova e vi manda veramente un grande ciao perché se state sintonizzati con questa radio vuol dire che avete buon gusto. Grazie. 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 si era tranquillizzato un po' troppo forza andiamo con un altro restate con noi e ci sono un po' troppo wow ragazzi che musica con lorenzo speed forza tutta musica viva i viaggi sonori di lorenzo speed S. S. E. M. M. E se vuoi? E se vuoi? E se vuoi? Grazie per la visione Grazie per la visione Viaggi sonori di Lorenzo Speed sono meglio di un buon caffè Ti aggiustano la giornata, mattina, sera, notte È sempre il momento giusto per ascoltare la musica proposta da Lorenzo Speed Grazie Franci Fiorenza è la macchina Cosa vuol dire Fiorenza è la macchina? Spiegateci, diteci, scriveteci 3497267647 Viaggi sonori Con Lorenzo Speed Viaggia insieme a noi Ti porteremo forse, forse dove vuoi Viaggia! L'importante è viaggiare, non importa dove L'importante è viaggiare Ci fa evolvere, migliorare, costruire Amare Viaggiare Volare Sognare If you want me If you need me I'm yours I'm yours If you want me If you need me I'm yours Si I'm yours Si Viaggia I'm yours Who Mi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Spettacolo, è arrivato il maestro, ciao maestro, vivi nella musica. E attenzione anche al prossimo, mi sto emozionando, grazie per i vostri feedback. Per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'amore. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Tutti insieme. Da ogni mare in conio, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Allora Anna Maria scrive. Tutti insieme prendiamoci per mano e volteggiamo al ritmo fantastico di questo viaggio sonoro di Lorenzo Speed creando luce ed energia vitale. Eccolo il grandissimo maestro Franco Battiato. Grazie Lorenzo Speed. Spettacolare trasmissione. Grazie Anna Maria. Hai perfettamente ragione Lorenzo Speed. L'importante è il viaggio. Non importa la meta, l'importante è viaggiare. Con la mente, con il corpo e con la musica. La musica dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Viaggi sonori o viaggi musicali? Beh, godiamoci la musica e i suoni che questa fantastica radio sta mandando in onda in questo momento. Grazie Franci anche della Sardegna con furore e non col furgone. Grande Franci, Franci c'è. E voi ci siete? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-726-7647. Un altro disco lo dedico sempre al mio babbo Francesco e mi emoziono sempre quando ascolto questo disco. I mitici Nomadi, mitico Augusto D'Oglio, voce indimenticabile nella storia della musica. Lo cantiamo insieme e crescerà il disco meraviglioso. Senti qua. Il gran finale di questo viaggio sonoro insieme, together, zusammen e juntos, United! Sì, giocare un aquilone, un gesso bianco, il vecchio muro. Non bastava niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai. Non bastava niente per sorridere, una corsa e poi a pescare sul fiume. Non bastava niente per sorridere, bastava niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai. Il rimpianto rimarrà, il rimpianto rimarrà, il rimpianto rimarrà. Di quell'età, di quell'età, di quell'età, crescerai, imparerai. Crescerai, imparerai. Spettacolo, spettacolo musicale. Grazie, grazie Augusto, grazie Nomadi. Adesso un'altra, è il momento brividi a fior di pelle, è il momento per emozionarsi. Ho scalato le montagne, immagino che hai sorriso. Quando ho detto di essere grande, invece no. E ora che non ho tempo, immagino, la tua mano spretta che mi afferra. Ti porterò, negli occhi miei, e ballerò, sarò vivo e sangrerò. Se colpite mi dimenticherò, di ogni livido ti abbraccerai, so che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, non calerse, leggero un angolo. E nel cielo ballano, non guardano, non guardano giù. E non dimentico, le luci si accendono, e sembrano un miliardo. E non le sentirò, giuro che non sentirò. Ogni lacrima che, male dirò, solo per dirti che non ho paura. E quegli anni io le, le strapperò, perché non sale, è solo una tortura. Ora che non ho tempo, immagino, la tua mano spretta che mi afferra. Ti porterò, negli occhi miei, e ballerò. Sarò vivo e sangrerò, se colpite mi dimenticherò. Tutti ogni livido ti abbraccerai, so che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, non calerse, leggero un angolo. E nel cielo ballano, non guardano, non guardano giù. Allora quella di prima la dedicavo al mio babbo Francesco, questa la dedico alla mia mamma. Grazie ai genitori per avermi donato la vita. Io amo la vita! E se amo la vita, grazie a voi. Grazie, grazie! Sarò vivo e sanguinerò E se colpito mi dimenticherò Di ogni livido ti abbraccerò, so che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, non calerse, leggero un angolo. E nel cielo ballano, non guardano, non guardano giù. Impossibile, impossibile non emozionarci con questa canzone. Chi non si emoziona ascoltando Ali di Rama non è sensibile. Bisogna emozionarci, bisogna, è un dovere. Il gran finale dai ultimi dischi con Lorenzo Speed. Dopo un pianto liberatorio, siamo sempre più forti. Forza! Per me Per me Morata la musica a 360 gradi grazie Lorenzo Spino per la dinamica che hai nella musica dalla musica più scatenata alla musica più suggestiva fantastici questi viaggi sonori anche Anna Maria Prezza dice bellissimo e toccante questo brano dei nomadi voce straordinaria di Augusto D'Aoglio ancora si è sentita la commozione Lacrimoni fa sempre grande effetto questa canzone grazie che fa anche rima con commozione e allora siamo pronti per il gran finale di Lorenzo Spino salutiamo anche Manuel Diabano Terme è arrivato meglio tardi che mai bravo Manuel gli amici apponensi ci sono e alziamo il volume forza dai ultimi dischi forza scatenatevi anche con i whatsappini telegrammini al 349-7267-647 come on ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti